I carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con la collaborazione del personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP, su richiesta dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, nelle quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, nel procedimento a carico di due soggetti indagati in concorso tra loro, per duplice omicidio, porto e detenzione illegale di armi, aggravati dal metodo mafioso. Secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati, classe 79 e classe 83, nel pomeriggio del 21 gennaio del 2012, in pieno centro, nel comune di Grumo Appula, raggiunsero e uccisero, mediante l'esplosione ravvicinata di ripetuti colpi di pistola, Giuseppe Paolo Antonio, all'epoca 24enne, e Franco Novelli, 38enne. Tutto si sarebbe verificato nell'ambito dell'aspracontesa in quel periodo, fra due consorterie criminali locali per il controllo dello spaccio di droga nel territorio di Grumo Appula. Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri, a carico dei due indagati, è stato condiviso dalla procura di Bari, che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare. Il GIP del Tribunale di Bari, accogliendo la richiesta del PM, ha disposto la cattura dei due soggetti, uno dei quali già detenuto in Italia per altra causa, mentre l'altro, emigrato da tempo in Germania con il proprio nucleo familiare, è rintracciato con l'ausilio del personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.